Presidente Pizzul, al quale lascio la parola per illustrare il documento. Grazie Presidente. Ho sempre ritenuto personalmente che il rispetto per la persona debba stare al primo posto dell'impegno di qualunque politico. Per questo credo, e qui lo ribadisco, che gli attacchi personali siano non solo da evitare, ma rappresentino spesso una scorciatoia che maschera l'assenza di progetti e di idee. Per chi ha un ruolo istituzionale, poi, il rispetto della persona diventa un aspetto fondamentale della propria azione, perché chi svolge un ruolo di governo, ha il compito di rappresentare e tutelare tutti i cittadini, rimanendo, non c'è dubbio, fedele alle proprie idee, al proprio programma politico, ma ponendolo al servizio dell'intera comunità che è chiamato ad amministrare, anche se serve, ponendo in secondo piano il proprio interesse e la propria immagine. Ebbene, credo che questo non sia avvenuto in Lombardia nelle ultime settimane. Non sapevamo molto di questo virus e tuttora non è che sappiamo tutto, ma alcune cose erano e sono chiare. È un virus molto contagioso, eppure non ci si è preoccupati di mettere in sicurezza il personale sanitario e, in larga parte, anche i nostri anziani. È un virus per cui, tuttora, nonostante alcune sperimentazioni, non abbiamo alcuna terapia specifica. Eppure ci si è concentrati sulla gestione ospedaliera della fase acuta della malattia, quando in molti casi la situazione di coloro che sono arrivati al pronto soccorso era già compromessa. È un virus, e questo ce lo stanno dicendo in molti esperti da settimane, che si può fermare solo sul territorio. Eppure ci si è dimenticati della sanità territoriale, probabilmente perché la si è considerata per anni un costo più che un'occasione di guadagno, soprattutto per qualcuno, o perché è stato considerato più utile investire in grandi strutture ospedaliere che portano con sé interessi ben più rilevanti rispetto a quelli dei cittadini. Questa non è una scelta fatta nelle ultime settimane, è una scelta che arriva da lunga data qua in Lombardia. È un virus, ci hanno detto ancora, che va tracciato sul territorio per togliere possibili occasioni di contagio. Eppure si è scelto di fare tamponi solo coloro che avevano evidenze cliniche di contagio. E si sono attese settimane per tentare di tracciare il contagio stesso con test che avevano un solo grande rischio, quello di smentire la strategia che la Regione aveva scelto. Sono queste che ho appena fatto, molto in sintesi e che sono contenute nella mozione, nella prima parte, delle considerazioni ormai largamente condivise. E forse gli unici a contestarle sono rimasti alcuni inquilini di Palazzo Lombardia. Per questo siamo convinti che serva un segnale chiaro di discontinuità e di cambiamento. Oggi abbiamo l'occasione per darlo questo segnale, visto che è la prima volta che a questo Consiglio è data la possibilità di un voto di giudizio politico e di indirizzo sulla gestione sanitaria dell'emergenza Covid-19. È giusto farlo soprattutto oggi, giorno in cui abbiamo inaugurato la cosiddetta fase 2 e d'altronde è stato proprio il Presidente Fontana a chiedere che la seduta si svolgesse oggi, in questa giornata e non domani. Giriamo pagina allora, apriamo la fase 2 e facciamolo con un atto formale della nostra Assemblea, a nome e per conto di tutti i cittadini lombardi. Serve un netto cambio di rotta, anche perché le difficoltà del sistema sanitario hanno pesanti ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi. Vi tedierò con un paio di citazioni a mia abitudine, ahimè. The Lancet, una prestigiosa rivista scientifica inglese di ambito medico, sul numero del 2 maggio ha scritto, al di là delle risposte immediate, questa pandemia sta rivelando come un incremento di lungo termine delle diseguaglianze e un ridimensionamento del servizio pubblico, soprattutto sanitario, abbia fiaccato la capacità delle società di fronteggiare shock esterni e abbia creato nuove vulnerabilità di fronte alle crisi. Un'altra rivista scientifica, The New England Journal of Medicine, il primo maggio, ha scritto, quando l'attuale crisi si calmerà, dobbiamo ricordarci una lezione. Il sistema può essere azzerato. È necessario capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nella riforma sanitaria. Non dobbiamo tornare al vecchio status quo. E qui si chiude la citazione. I due articoli non parlano specificamente di Italia, ma sembrano scritti apposta per la Lombardia. Non dimentichiamoci che siamo stati vicini al collasso del nostro sistema sanitario, che per fortuna e per bravura degli operatori sanitari non è avvenuto. Bisogna cambiare rotta allora per evitare che accada di irreparabile e bisogna farlo subito. Ci sarà tempo per discutere di quello che non ha funzionato, della riforma della legge 23, ma adesso è necessario dare un segnale di cambiamento per inaugurare oggi la fase 2. È il consiglio di un chiaro segno di indirizzo e il Presidente Fontana poi agisca come crede di conseguenza. Come dicevo all'inizio, nessun attacco personale. E per dimostrarlo chiedo, l'ho già depositato, una modifica al primo punto dell'impegna di questa mozione. Togliere le parole politico e tecnico e togliere le parole e dei vertici della sua direzione generale. Quindi nessun attacco riferimento specifico a persone, però è necessario un cambiamento per rispetto dei cittadini lombardi e di quello che hanno fatto in queste settimane. Un cambiamento che non può che passare da un avvicendamento al vertice dell'assessorato al welfare, politico. È il minimo che questa amministrazione devi ai lombardi, sempre Presidente, che voglia continuare a rappresentarli. Vi ringrazio. Bene, grazie Presidente Pizzul. Prima di iniziare la discussione generale ho chiesto di intervenire l'Assessore Gallera, che ne ha facoltà.